radio tunisi canale internazionale programma in lingua italiana buon pomeriggio a tutti con voi la dallo studio uno radio tunisi canale internazionale e con noi oggi il nostro dj per solelli dai parliamo un po di eventi culturali la stagione lirica si aprirà il 30 giugno in tunisia con un nuovo allestimento targato luglio musicale della lida una delle opere più celebre al mondo di giuseppe verdi un appuntamento di grande suggestione realizzato in un scenario unico il prestigioso anfiteatro quindi romano di il jam patrimonio mondiale dell'unesco la ida sarà poi ripetuta in preapertura il 5 luglio in altro sito di grande rilevanza storica il teatro antico di cartagine alle 21 e con noi oggi artisi signor giovanni de santis direttore artistico e consigliere delegato dell'ente l'union musicale trappanese benvenuto buongiorno a voi grazie allora signor de santis ci può presentare questa settimana dell'opera e della coproduzione italo tunisina dell'opera certamente si tratta di una di un'attività di cooperazione culturale transfrontaliera che abbiamo avviato con con il governo tunisino con il ministero degli affari culturali con l'orchestra dell'opera dei tunis con l'orchestra sinfonica nazionale la tunisia e in più in generale con una serie di operatori perché si tratta di un progetto che non vuole essere soltanto la settimana dell'opera che arriva e poi finisce noi vorremmo qui in cooperazione con la parte tunisina realizzare proprio un polo d'eccellenza per la produzione dell'opera lirica che si connetta con la sicilia quindi unire l'italia la sicilia la tunisia in un polo importante che è un polo sia culturale sia produttivo sia turistico perché vorremmo mettere in scena da qui a venire le opere in un nei teatri antichi del mediterraneo di trapani che abbiamo noi a trapani abbiamo un patrimonio greco di epoca ellenica e quelli ai teatri di pietra del mediterraneo della tunisia che voi conoscete benissimo e che sono veramente splendidi sì ok perfetto e perché avete scelto la ida ma guardate la ida in verità l'abbiamo messa in scena un'altra ida un'altra un altro allestimento a trapani ed era venuta una delegazione della della tunisia dell'agenzia nazionale del patrimonio una delegazione governativa hanno visto la nostra ida e si sono innamorati e ci hanno detto dovete venire se venite in tunisia a fare l'opera dovete mettere in scena ida e quindi noi ci siamo ci abbiamo accolto con grande piacere questo questo invito però la ida che abbiamo fatto che abbiamo realizzato a tunisi in tunisia è totalmente diversa un altro allestimento perché pensavamo di portare la nostra poi abbiamo visto questi luoghi magnifici abbiamo chiesto al nuovo regista fan fai una cosa totalmente nuova dedicata alla tunisia quindi è perfetto e allora cosa vedremo sul palcoscenico quanti elementi allora innanzitutto io tengo a sottolineare una cosa che quello che vedere tutti gli elementi di scena che vedrete sul palcoscenico li abbiamo costruiti tutti in tunisia nella zona di bizerta quindi anche lì quando dico di produzione non mi riferisco soltanto alla parte artistica ma vorremmo qui impiantare proprio delle attività di produzione delle scenografie delle dei costumi dei decori e insomma delle scenografie e poi per quanto riguarda la parte artistica vi devo dire che l'unione fra la nostra orchestra del coro dell'entruglio musicale e i coristi del coro dell'opera di tunis e dell'orchestra sinfonica nazionale l'orchestra dell'opera ha dato veramente una grande una grande resa vi devo dire che già le prime letture ho detto io al ministro è migliore della nostra orchestra in italia tutti e due mesi assieme hanno fatto una grandissima forza e poi chiaramente saranno abbiamo messo un cast di eccellenza ci sono delle delle presenze come per esempio il baritono giuseppe garra che ha perlomeno nella ida di zeffirelli ha fatto almeno 200 recite abbiamo una dario prola il tenore radames che ha fatto ha esordito ha debuttato da noi a luglio musicale sia in aida che in turandotte che in butterfly ed è un veramente un un tenore di di grandissimo spessore quindi il maestro certa direttore il nostro direttore d'orchestra è anche responsabile della programmazione lirica del luglio musicale trapanese insomma abbiamo portato quello che di meglio abbiamo noi in italia in sicilia nel luglio musicale per affinché la produzione italo tunisina si qualifichi immediatamente già dalle prime battute con una produzione di eccellenza che apre le porte a un futuro radioso perfetto allora lente luglio musicale compie quest'anno 70 anni di cività e qual è il programma dell'ente alla noi in italia abbiamo la stagione si aprirà il 17 luglio con tosca di giacomo cucini proseguirà con l'elisir d'amore poi avremo la traviata e poi riporteremo la ida italo tunisina ce la vogliamo fare anche a trapani chiaramente ci fa piacere e saranno a trapani tengo a sottolineare che abbiamo già invitato alcuni degli artisti tunisini che ci stanno affiancando in questa bella avventura avremo il piacere di ospitarli a trapani per tutta la produzione perché è una produzione congiunta che andrà in tunisia ma la stessa deve andare anche in scena a trapani e quindi la ida sarà presentata qui in tunisia poi si poi a trapani si si poi a trapani abbiamo poi anche un'altra serie complessivamente abbiamo una quarantina di spettacoli perché noi siamo specializzati anche nell'opera da salotto nei piccoli spazi faremo anche i concerti sinfoni insomma la nostra è una stagione molto variegata e come è nata questa collaborazione tra voi e la tunisia cioè come è avvenuta sì noi abbiamo da da anni dico come comunità trapanese sarà noto a tutti il trapani la provincia di trapani ha un legame particolare con la tunisia c'è la comunità di mazzara del vallo ma anche noi a trapani teniamo dei buoni rapporti per esempio col consolato di palermo quindi parlando con i due consoli che si sono avvicendati sono nate queste collaborazioni abbiamo avuto delle visite di delegazioni tunisine pian pianino abbiamo elaborato un progetto che ha preso forma e ora è diventato sostanza e comunque la cultura è molto importante e questo caso nella musica che fa avvicinare ma la nostra paesi la cultura la musica in particolare è totalmente laica unisce i popoli ed è veramente uno strumento di comunione di fratellanza e poi non fa altro che celebrare quella che per noi è già una fratellanza perché il nostro popolo specialmente noi siciliani con i tunisini siamo ci riteniamo di essere la stessa la stessa abbiamo la stessa matrice abbiamo condividiamo una storia ultra secolare e io dico sempre che in realtà non si dovrebbe parlare di continente quando si parla di sicilia e tunisia non si dovrebbe parlare di continente italiano europeo e africano ma abbiamo un unico grande continente che ha il mare e la terra quindi siamo uniti il mare nostrum di romana memoria quindi è il 2 luglio invece l'orchestra italo tunisina quindi si è impegnato in un concerto a sus allora no il concerto per una questione proprio di logistica e non si è fatto più abbiamo pensato bene ma non solo per una questione logistica perché abbiamo presentato insieme con la parte tunisina un progetto sui fondi europei che riguarda proprio la la grande musica nei teatri pietra del mediterraneo già il progetto ha passato la prima fase di selezione e prevederebbe appunto delle recite in tunisia nei teatri romani e delle recite a trapani in particolare a seggesta nei teatri di pietra del di epoca ellenica e quindi abbiamo pensato di fare un'anteprima proprio del di quello che sarà il progetto per cui ci sarà la ida in tunisia e il requiem di verdi lo faremo al teatro greco di seggesta il 2 agosto ok perfetto quindi ricordiamo per chi non lo sa si può essere la ida cos'è la ida quindi la ida che un'opera drammatica stata creata nel 1871 in quattro atti di giuseppe verdi sul libretto di antonio chislanzoni quindi basata su un soggetto originale dell'archeologo francese auguste mariette e e poi poi niente quindi vuole aggiungere qualcosa rispetto al programma che ci aspetta credo che sarà intanto la ida è l'opera più rappresentata al mondo quindi la tunisia riprende la sua diciamo il suo impegno nell'opera lirica nella maniera migliore e con l'opera più più conosciuta più messa in scena nel mondo e dopo i chiedi sarà una devo dire credo che sarà un avrà un impatto scenico davvero particolare perché non voglio fare delle anticipazioni ma abbiamo i costumi la parte della parte scena pirana non voglio dire perché se no vi tolgo ci sono 150 artisti quindi ci sono ci saranno più di 100 considerate che la produzione avrà fra parte artistica a 250 addetti 150 vengono dall'italia e 100 dalla tunisia quindi è veramente una cosa una produzione una bella squadra che è stata messa assieme devo dirvi che a parte le difficoltà normali che sono in tutte le produzioni ma qui abbiamo abbiamo trovato veramente delle musicisti artisti maestranze di primo ordine quindi si sono entrate in sintonia immediatamente con i nostri e quindi ciò prelude a un buon esito ok perfetto quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori quindi il 30 giugno al jam alle 21 poi il 5 luglio al teatro di cartagine ok vi ringrazio molto grazie a voi ringraziamo anche il signor salvatore faugiana faugiana qua è l'artefice della della produzione in tunisia se non ci fosse lui fosse stato lui non avremmo potuto fare niente ok ok grazie grazie di essere venuti grazie